ci sarà il mondo è la madonna sto pensando dove andare a restare senza ma lì ci fanno dall'alto andiamo qua sono scesi, sono scesi, si si andiamo su, almeno facciamo questo cross bruttissimo adesso ecco qua, uno, due, sono due, basta? ma uno è invisibile, hai visto che è un invisibile? quella che è che c'è del cazzo, no via, si si uno è invisibile perché, hai presente, non hai visto? no, 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 stavo guardando proprio dietro io col calore l'ho visto, ma ecco che sparano, qua sopra hanno droppato si, hanno droppato là sopra, c'è ancora il gas, quindi probabilmente sono ancora lì però secondo me stanno fightando con quelli che crossavano, quindi li facciamo c'era un altro qua, eh valla io non voglio morire di lancio vai, parti tripla, tripla, due team ho fatto, madonna quanto sono figo mi scoperei da solo se avessi il cazzo abbastanza lungo va che sono scesi, sono scesi qua, eh si, si, si si è sceso leggendario lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo questa qua c'è il DMR è bello tutti i pancerazzi contatto nemico uno solo quello oh qua c'è anche un grappolo, raga, ma no, un bombardamento raga è Natale, dovete prendere tutto qua si, avanziamo c'è ancora, lo vedete ancora quello lì singolo che camminava no, è andato sotto il ponte eccolo, eccolo c'è un altro, è dietro, qua ecco, cecchino, eh, cecchino, ma steso già sono dietro, da qua non mi sono sicuro, però sta arrivando dovevamo fightare quando eravamo già un po' più pronti non li vedo più riesci a restare? grazie no, cecchino è quello di prima è quello di prima devi venire più sotto per restare, perché da qua non mi prende sicuro però devi venire più sotto vediamo se vieni qua, non mi prende da qua ma perché vi vedo tutte e due morti? no, io ce ne sto, sto qua avete del gas in arrivo? ah, ok sta arrivando, eh io so, sto, sto, sto fatto madonna, one shot in un colpo solo sta arrestando, eh, si sta... si, si tu non mi hai visto, vero? eh no, perché ero girato basso di lui madonna, che cazzo di altra kill un colpo solo bam headshot tirato giù qua tu c'hai... qua piastre, raga una protezione no, devo dire che come mani sono migliorato tanto, eh esatto esatto qua c'è il chilo, eh c'è il chilo, la maschera, raga Natale anche qua veloce, veloce che arriva, arriva il gas una stazione medica ce la fai in aeroporto invece sulle case in copertura e magari il cross è meno, è meno violento oppure saltiamo subito adesso no, andiamo... tipo di qua qui c'è un venditore, se servono propite date un'occhiata qua ancora hanno loot la zona è una delle mie preferite, ti dico la verità occhio che abbiamo gente, pallini, pallini, ah in open qua ok che vengono verso lo shop? non lo so stanno andando verso il gas sì, comunque il problema è di andare verso lo shop io andrei a destra sta crossando, allora lo uccidono, eh qua c'è ancora una cassa qua, spero ecco lì davanti a me, davanti a me stanno venendo qua ti vedo madonna raga un colpo headshot poveraccio, poveraccio ci sono arco ok questa partita perderemo in modo perderemo in modo sfigato perché sto facendo troppi kill pulite adesso sto andando al mech perdicino e il e car andavo adesso in teoria l'obiettivo sarebbe fare dmr e mech tra l'altro io non ho ancora preso il drop sono con le armi prese da terra adesso che ci penso quindi abbiamo fantasma, eh raga io non ho niente sono morto sotto la laguna che mi resta da tu eh sì dopo sei darmi da terra e basta dove cazzo andiamo, mo? io crosserei e andrei verso verso tv station ma non andrei a tv station non so come dire no, no andrei sotto da lì qua oh, oh, mi sparano sono safe, sono safe, sono safe ci accettiamo, ciao sono safe eh, minchia, mi ha segato un'altra volta bombardamento di precisione nemico al riparo bombardamento, cazzo, puttato no 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 lo